L'osteoporosi è una malattia dello scheletro caratterizzata da una perdita graduale della resistenza dell'osso, tale da procurare delle fratture, talvolta anche con traumi lievi o addirittura spontanee. Nelle Marche sono 123.000 le persone che fanno i conti con l'osteoporosi e quindi con la fragilità ossea. La giornata mondiale dell'osteoporosi è l'occasione di un check-up importante. Con la campagna regionale Ossiduri si diventa, l'attenzione è rivolta alla prevenzione primaria, attraverso la partecipazione attiva della popolazione. L'osteoporosi si manifesta dai 60 anni circa, in donne e uomini, e con l'aumento dell'età media potrà diventare sempre più una piaga sociale. Tanto più sei avanti con l'età, tanto più lo scheletro è fragile e può andare in contraffrattura. La prevenzione di fratture drammatiche è farmacologica, ma secondo un'indagine europea il 71% delle donne ad alto rischio patologia non sono trattate in modo ottimale e il perché è legato ad una mancata consapevolezza. L'ultimo campanello d'allarme dell'osteoporosi è proprio la frattura, dovuta anche a traumi minimi. Quando ad essere colpito al femore, nei due terzi dei casi la persona non cammina più ed è soggetto ad importanti costi sociali. Ma non solo sono importanti le fratture di femore, anche le fratture vertebrali, ma anche le fratture di qualsiasi altro distretto dell'organismo può essere soggetto a frattura legata all'osteoporosi. Nonostante la sua manifestazione in età molto adulta, l'osteoporosi è definita una malattia pediatrica perché la prevenzione inizia da piccoli. Estremamente importanti sono i stili di vita e qui parliamo di una prevenzione che deve iniziare in qualsiasi fascia di età. Una buona alimentazione con un buon apporto in calcio, il calcio è basilare, le nostre ossa sono fatte di calcio. Se non introduciamo il calcio con l'alimentazione le nostre ossa si indeboliscono. Importante dire no al fumo e sì all'attività fisica perché consente di prevenire le cadute e sì alla vitamina D perché permette l'assorbimento del calcio. Durante i colloqui di prevenzione si abbattono anche falsi miti. Bisogna un po' sfatare il mito che dice che il latte fa male. Non è assolutamente vero, scientificamente provato che il latte fa bene.